figlia di Vincenzo Enzo Restuccia, batterista dell'orchestra di Ennio Morricone e Sessionman, e di Anna Giordano, violista dell'orchestra sinfonica di Roma. Marina Restuccia è cresciuta con la passione per l'arte, per la musica e le percussioni in particolare grazie anche all'influenza dei genitori che la abituano al jazz, al sol, ma anche alla musica classica. A 18 anni si stacca dalla famiglia per dedicarsi alla musica dal vivo, esibendosi in alcuni tra i più noti locali romani.